Tre giorni di riflessione e confronto nell'ambito dell'annuale convegno di programmazione dell'attività pastorale dell'Arcidiocesi di Napoli nella casa dei Salesiani a Pacognano Seiano. Il cardinale Crescenzio Sepe ha tenuto l'intervento di sintesi e di indirizzo alla luce delle relazioni svolte dei lavori dei laboratori e quindi dell'esperienza fatta, dei risultati ottenuti nel corso dell'anno pastorale che si va concludendo e dei progetti da sviluppare sul territorio nello spirito della terza opera di misericordia corporale Vestire gli ignudi. A Pacognano si sono riuniti con il cardinale Sepe e i vescovi ausiliari Lucio Lemmo, Gennaro Acampa e Salvatore Angerami con i vicari episcopali, decani, direttori di curia, anche i rappresentanti di tutti gli organismi diocesani e dei movimenti ecclesiali. Nel corso dell'ultima serata è stato proiettato un video sui dieci anni dell'attività della diocesi di Napoli sotto la guida del cardinale Sepe realizzato dall'Agenzia Video Informazioni. Tra le esperienze fortunate di cui si è discusso quella della farmacia solidale che in pochi mesi ha già consentito di consegnare farmaci per 180 mila euro. Ormai da tanto tempo, noi sappiamo che nelle parrocchie, nella stessa curia, presso l'ufficio Caritas, pervengono una serie di richieste di persone che, povere, non avendo soldi per comprare i medicinali, si rivolgevano a noi. Allora, naturalmente, noi non si dà mai soldi, ma si prendevano le ricette, si compravano i medicinali che erano scritti e poi li si donavano. Continuando la richiesta, anzi aumentando sempre di più negli ultimi tempi, si è pensato cosa fare per rispondere a questa continua richiesta della nostra gente. Pensate di fare una farmacia solidale dove si distribuiscono gratuitamente questi farmaci.